Buonasera, la copertina di questa sera dedicata alle iniziative legate alla giornata per i diritti dell'infanzia, con queste splendide parole dei bambini. Vediamo subito però quali sono gli argomenti principali di questa seconda edizione del film. Siamo agli spettacoli, il legame strettissimo tra cinema e teatro dà la vita a un festival internazionale a Salerno. Enrico Doeringer. Basta Alan, basta con questo cellulare una volta per tutte e maledizione. Il teatro è cinema, ma soprattutto il cinema è il figlio del teatro, uno stretto rapporto ampiamente dimostrato da alcune significative esperienze, come i film Carnegie di Roman Polanski e il Don Quixote di Maurizio Scaparro, proiettati a Salerno al Teatro delle Arti nel corso di un incontro propedeutico alla nascita del Festival Internazionale Cinema e Teatro. Con Maurizio Scaparro abbiamo avuto questa idea, questo progetto, perché l'anno prossimo possa partire un festival internazionale, perché sentiamo questa spinta importante verso un qualche cosa che si congiunge e si integra come il teatro e il cinema. Io faccio la regista di teatro, ma amo moltissimo certe volte riferirmi, come l'ho fatto con Don Quixote molti anni fa, usare la macchina da presa per fare un film, film, ma con un qualche cosa che assomiglia molto al teatro e comunque dal teatro parte. Ne hanno discusso insieme ai promotori Daniela Ronica, direttore del Centro Studi sul Cinema Italiano di Barcellona, il critico cinematografico Nino Petrone, il professore Alfonso Amendola dell'Università di Salerno, Luigi Grispello, presidente dell'Agis Campania e Paolo Petroni dell'Ansa, dandosi appuntamento nel prossimo anno per il festival che sarà un vero laboratorio di approfondimento per indagare quanto il cinema ha espresso ispirandosi al teatro e quanto il teatro ha realizzato utilizzando il linguaggio cinematografico. È tutto, l'informazione regionale torna a mezzanotte 10, grazie per l'attenzione e buonasera.